Poli Radio è la radio ufficiale degli studenti del Politecnico di Milano. La nostra mission è quella di rendere l'associazione un caposaldo all'interno del tessuto musicale e artistico milanese, ma soprattutto di dare voce all'interno e all'esterno dell'Ateneo agli studenti del Poli. Il pilastro su cui si fonda è l'essere un laboratorio creativo per tutti gli studenti dell'Ateneo che vogliano sperimentare e soprattutto innovare nel campo in cui l'associazione opera. Nel corso dei nostri 13 anni di vita abbiamo fatto partire diversi progetti, tra cui Messe in onda della radio, con una rotazione musicale 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e programmi in diretta ogni giorno. Collaborazioni per partecipazione ad eventi di stampo internazionale, quali il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest. Realizzazione di interviste, sia da artisti già noti al grande pubblico, sia a progetti emergenti. In Labs di ricerca e sviluppo, che si occupa di mettere in pratica le competenze studiate nel percorso universitario, declinate nella dimensione radiofonica. Progettazione e messa in atto di eventi in esterna. Non solo imparare a fare e montare una radio, ma anche intrattenimento, animazione dal vivo e DJ set durante gli eventi all'interno e all'esterno dell'Ateneo. Creazione di contenuti multimediali per i social della radio. Oltre all'interviste e ai podcast, facciamo produzione audio di elementi musicali e di sound design e creazione e montaggio di contenuti video. Collaborazioni con Ziegat Festival, Home Festival, Reply, OnePlus, Red Bull, Teatro Litta, Teatro Manzoni, Milano Design Film Festival. Grazie alle capacità di conoscenze trasversali che si sviluppano nello staff, crediamo che chiunque possa fare proposte di rinnovamento e nuovi progetti da seguire. Per entrare a far parte della nostra squadra non serve nessuna competenza in particolare, se non la voglia di mettersi in gioco. Tutte le competenze che potrete imparare saranno trasmesse direttamente dagli altri membri dell'associazione. Se volete, potete seguirci sui nostri canali social di Facebook e Instagram. Oppure potete ascoltare le nostre dirette e i nostri podcast sul nostro sito www.poliradio.it Vi aspettiamo!